Io ho fatto l'ufficiale del genio, sapete che una delle specialità del genio è quella degli artificieri che servono a disinnescare situazioni di potenziale rischio. In questi giorni mi è capitato di applicarlo un paio di volte questo concetto. Così Alessandro Ghinelli scherza i nostri microfoni cercando di stemperare le tensioni che ci sono state in queste ultime settimane all'interno del centro-destra. La verifica di maggioranza conferma, è andata bene. Ma è andata bene, diciamo che le tensioni che si erano un po' stratificate negli ultimi mesi sono figlie di una diversa posizione che due partiti che stanno nel centro-destra mi riferisco a Fratelli d'Italia e Lega hanno perché uno sta dentro il governo e uno sta fuori dal governo. Certamente un riflesso è arrivato anche qui ad Arezzo ma quando ci siamo guardati nella mia stanza nelle palle degli occhi si è convenuto che l'amministrazione sta andando bene che non ci sono temi di rivalza a livello amministrativo ma è una sostanziale sovrapposizione di elettorato che poi produce questa reattività dei due partiti. Per quello che riguarda invece i consiglieri comunali che dovevano comunicare gli incarichi avuti nelle partecipate è già arrivata una prima lettera. Una è arrivata spontaneamente, ancora non è partita la mia lettera ma già una, siccome l'ho dichiarato pubblicamente che avrei scritto, una è già arrivata.